C'è Giancami davanti. Buongiorno. Una domanda, ministro? Sì, qualcuno mi dice ragioniamo perché dei no diventano sì. Miglioriamo la squadra, miglioriamo il programma, diamoci un tempo e diamoci un obiettivo, non contro, ma per un'ampia base parlamentare e che possa ridare una speranza agli italiani. In queste ore sono state avviate tutte le interlocuzioni necessarie per individuare una maggioranza solida al servizio dei cittadini che voglia convergere sui punti che ho espresso con me. Un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore. Affacciati alla finestra, amore. Affacciati alla finestra, amore. Svolgerò quindi nuove consultazioni che inizieranno nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e per assumere le decisioni necessarie. Grazie.